Ciao ragazze, oggi video haul haul per quanto riguarda le cose che ho preso in saldo haul befanoso haul make-uposo insomma un po' di tutto e anche alcune cosine che ho preso non in saldo ci sono sia capi di abbigliamento che accessori che make-up il make-up ve lo lascio per ultimo e inizio con l'abbigliamento perché non è tantissimo però ci tenevo a farvelo vedere allora inizio con gli stivaletti che ho preso in saldo per le ragazze di Salerno le ho prese da Airman a Torrione e sono fatti così, sono neri hanno un tacco bassissimo portano questo cinturino questa tipo stringhettina con le borchette e quest'altra fatta con i brillantini davanti sono tipo a punta quella punta insomma tondeggiante niente di eclatante e poi portano la cerniera quindi sono anche molto pratici da indossare questi qui costavano 26 euro io li ho pagati 16 e niente, mi ci trovo bene sono molto comodi per tutti i giorni o anche per scendere insomma il sabato io ieri li ho messi il sabato sera anche perché sono insomma non fanno male si sta bene insomma non rischiate di arrinzicare arrinzicare? non rischiate insomma di arrinzicare per strada col taccone che vi state insomma zoppando mi rendo conto che non siete tutte come me però i comunque tacchi alti sono una palla parliamoci chiaro cioè chi bella vuole apparire un po' da patente è un detto nostro che purtroppo non mi sovviene in questo momento poi vi faccio vedere cosa ho preso questa qui non l'ho presa in saldo però mi piaceva tanto e l'ho voluta comprare lo stesso sempre per le ragazze di Salerno o Cava questa qui l'ho presa da Energy Energy sta o a Torrione o al corso di Cava ed è una maglia stupenda secondo me è fatta tipo di lanetta morbida ha il collo di pelle nera dietro porta questo scollo tipo ovale che porta tipo un gazzettino oddio un gazzetto e sotto porta tipo queste queste pettole queste tipo l'effetto camicia di pelle insomma non mi viene in mente il termine è grigio antracito il maglione comunque è stupendo appena l'ho visto mi ha fatto pensare molto ad Alicia queste cose un poco particolari di pelle le croci mi ricordano molto Alicia la diva del tubo che se mai mi vede io ci mando un bacio enorme perché io l'amo e niente l'ho voluta prendere l'ho pagato intorno ai 21 euro però è molto bello e particolare sinceramente anche per un sabato sera io ce la vedo proprio perché porta la particolarità di questo collettino di pelle nera e poi so addosso ha un bellissimo effetto fiera del mio acquisto poi sempre per quanto riguarda l'abbigliamento ho preso due pantaloni sempre allo stesso negozio quindi da Energy sempre per le ragazze di Salerno insomma e ho preso questo pantalone qui però credo che comunque questo genere di pantaloni queste robe che vi faccio vedere che ho preso da Energy le potete trovare anche nelle vostre città nei negozi o anche dai cinesi perché non sono marche insomma non hanno un marchio voglio dire quindi voglio dire le potete trovare anche un po' dappertutto basta insomma ricordarvi il modello o se non è proprio uguale simile e ho preso questo pantalone qui che per intenderci ricorda molto le leggings di Zara quello lì con la cosa di pelle solo che non so quanto costa quello da Zara e sinceramente mi sono presa questo che l'ho pagato 13 euro e 90 è fatto tipo in sintetico o in qualcosa di elasticizzato comunque porta questo fascione e questo qui tiene le taschine dove praticamente la particolarità qua non so se si vede ma è un brillantino e niente porta ai lati la fascettina tipo di semi pelle è stretto sotto insomma è ovvio e poi dietro porta queste taschettine che fanno tipo l'effetto di pelle molto molto carino infatti lo abbinerò sicuramente alla maglia che ho preso e vi ho fatto vedere prima e mi piace tantissimo e l'ho pagato 13 euro e 90 poi un altro pantalone molto molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima è questo anziché insomma portare le taschine porta queste cernierine e porta tipo questo motivo sempre fatto tipo di semi pelle il tessuto identico dietro porta le tasche fatte in questo modo ma sono finte e niente questo qui l'ho pagato 14 euro e 90 ovviamente perché comunque è un po' più particolare porta le cernierine questo motivo però il tessuto insomma è lo stesso stanno da dio addosso davvero mi fanno molto molto magre e insomma mi piace mi piacciono molto le ho volute prendere tutte e due anche se sono molto simili proprio perché mi piace come mi stanno addosso io sono una di una tipa che praticamente se trova una cosa che ci sta bene cazza che si compra tutti i colori dello stesso modello perché insomma mi mi sta bene e ho preso insomma questi due qua poi volevo far vedere anche il trucco che ho realizzato oggi mi piace è la prima volta insomma che faccio questo accoppiamento di colori che utilizzo questi liner comunque mi piace bello luminoso poi da OBS vi faccio vedere cosa mi ha preso il mio fidanzato tipo per il regalo della Befana devo dire la verità io non vado a spendere mai da OBS perché insomma non gli do mai una lira a quello che vende cioè non mi piace non mi piace lo stile non mi piace insomma mi sa tanto di bambinetta non lo so però questa volta mi devo ricredere perché alcune cose erano carine infatti ho preso questa giacca questa me l'ha regalata il mio fidanzato che costava 49 euro e 99 e l'abbiamo pagata 30 euro in saldo e porta tipo questo collettino di pelle sulle maniche porta i bottoncini di pelle come il colletto e anche insomma i bottoncini giù porta insomma i taschini qua è molto avvitata come potete vedere qua si vedono le cose che è avvitata e dietro è fatta molto molto avvitata ha un bellissimo effetto metti a fuoco cacchio ecco è fatta tutta così avvitata anche dietro porta insomma le spalline insomma è molto molto bella fa tipo manager infatti per chi mi segue su facebook avrà visto che l'ho indossata e vi ho fatto vedere insomma come l'ho come l'ho l'ho abbinata ho fatto sia l'outfit da manager trappana con la maglia amaculata sotto e la collana fluo che poi vi mostrerò tra poco e sia un pochettino più elegante abbinata a questa maglia che ho preso sempre da OBS e l'ho pagata a 17 euro però non vi so dire quanto costava perché secondo me cioè smancava il prezzo praticamente dietro è fatta sembra trasparente ma come potete vedere non è trasparente perché davanti porta questa questa trama che quest'anno va un sacco tipo questi quadrettini e porta insomma queste rose nere insomma molto molto bella secondo me porta la manica a sbuffo come potete vedere indossata fa tipo l'effetto palloncino e dietro porta questo spacchetto molto molto bella per 17 euro fa una bellissima figura infatti ieri quando l'ho messa mi hanno fatto un sacco di complimenti come bella come bella è a manica lunga molto molto carina devo dire la verità e l'ho pagata a 17 euro però non vi so dire quanto costa sinceramente ho trovato un ottimo prezzo e l'ho voluta prendere e come avviamento credo che abbiamo finito adesso vi faccio vedere gli accessori a questo punto vi faccio vedere la collana che ho preso da Tally Whale e l'ho pagata 3 euro e 95 sconto col 50% di sconto costava tipo 7 euro e 95 una roba di questo tipo ed è questa che ho preso da Tally mi piace un sacco si lo so è un po' pacchiana ma io sono pacchiana e vabbè non vedetela sulla tuta che è un po' schifo l'abbinamento però è bella c'è da una bella luce è bella poi tiene queste pietrine giallo fluo insomma ravvivano un poco i look total black oppure danno una botta di vita per esempio a quella camicettina lì che era grigia e nera molto semplice per rendere insomma un po' più particolare e insomma ricercato il look ci ho voluto mettere questa particolare ricercato che cosa mi è uscito particolare ricercato il look ci ho voluto mettere questa collana che a volte vedete si gira da sola non ho ancora capito il perché comunque per 3 euro e 95 molto molto bella ce n'era un'altra che me la sono fatta scappare che pure era molto carina ho detto vabbè la solita ciorta e niente ho preso solo questa qui e sempre da telly ho preso questo plug per il telefono si lo so io sono trappana però mi piace tiene le luce con gli sbaroschini grigio antraciti e un cuoricino al centro molto molto carino e l'ho messo vicino insomma al mio telefono niente di di particolare e l'ho pagato 1 euro e 90 1 euro e 90 poi sempre in quanto riguarda gli accessori vi volevo far vedere gli orecchini che mia madre mi ha regalato a Natale che mi sono scordata di farvi vedere come una cazzona e sono molto belli da abbinare alla maglia di Zara che vi ho mostrato sempre nel video dei regali di Natale che per chi se l'è perso ve lo linko qui sotto e sono questi molto molto carini sono insomma con l'aranzo e l'oro sono davvero belli fanno vedete una bella luce sono bellissimi e queste qui per le ragazze insomma di di Salerno le ho presi da Apre Paris però sta anche su Instagram magari vi scrivo su nell'info box il nome e magari attraverso Instagram può darsi pure che spedisce in altre città i capi perché davvero tiene un negozio di robe molto particolari un po' costose ma particolari poi sempre mia mamma per la Befana ha fatto una sorpresa sia a me che a mia sorella io sono rimasta tipo sbigottita non sapevo veramente che cosa dire davvero mi ha fatto felice allora mi ha preso di come te gioielli come potete vedere secondo solo il brazzale di perle semplicissimo e poi in abbinanza attimo solo in abbinanza la collana a parte le confezioni di queste robe che sono stupende cioè io quando l'ho vista sono tipo impazzita ma poi io adoro le perle sì sono trappana inside però sono bellissime bellissime cioè questa è tipo da portarla fino a nel tavuto sta collana perché è un classico che non muore mai tavuto sarebbe nella tomba ve lo traduco e niente è stupenda stupenda infatti ho già menato la botta al mio fidanzato che però per completare il tutto ci vorrebbero gli orecchini poi vedremo insomma se me li regala e ovviamente vi terrò azzornate il secondo che chiudo perché tengo paura di chiuderlo male ok e adesso non dimentico tutto passiamo al al make up inizio con le cose che forse allora il fondo dinta della stila allora vi premetto allora molte ragazze hanno chiesto cos'è il banchetto magico allora il banchetto magico cioè l'ho rinominato io così praticamente sono quei banchetti che vanno nei mercati rionali pure delle vostre città insomma che ne so il mercato a Roma mercato a Milano mercato a Napoli mercato no Napoli vabbè le ragazze lo sanno perché cioè da noi ci sono queste cose è più difficile trovarli al nord questi questi tizi e praticamente questa bancarella vendono prodotti dai 3 euro ai 5 euro di make up per quanto riguarda la skin care bagno schumi robe di questo tipo la maggior parte vende merdate cioè robe che cioè o false o non di marca mentre ho trovato nel mio mercato questo tipo che porta davvero robe di alta qualità di grandi marchi a prezzi stracciatissimi e inizio nel farvi vedere ad esempio il fondotinta della stila che tutti noi insomma conosciamo la stila e anche quanto costa sia su internet che insomma in generale io questo fondotinta qui l'ho pagato 3 euro in questo banchetto ed è sì cioè non è una roba vecchia perché io poi vado a vedere anche sui siti perché poi capito posso anche andare lì a cambiarlo non lo uso e lo vado a cambiare e questo fondotinta qui esiste ancora cioè lo fa tuttora la stila e si chiama one step praticamente all'interno allora 100% pigmenti naturali ha un effetto tipo alta definizione è lunga durata e senza parabeni senza fragranza all'interno minimizza i pori vi lo traduco in inglese mi sto dando un tono perché sto cercando di migliorarmi anche per quanto riguarda l'inglese idrata lo ha il controllo per le ragazze che hanno una pelle grassa infatti io lo stra consiglio per le ragazze che hanno la pelle grassa e all'interno contiene anche primer e correttore e cipria cioè è tutt'uno questo è infatti uno step basta applicare solo questo prodotto e state a posto cioè io lo adoro la tonalità è giusta ed è la light a me se me lo metto a fuoco comunque è la light non è manco la più chiara perché c'è anche la fairy 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 non so come si dice che ho visto su internet è tipo bianco cadavere questa qui è un beciolino e insomma per me va bene nel periodo invernale mi sta piacendo tantissimo quindi super super affare poi un altro affare è questa terra della Revlon che ho cercato un pochettino su internet ed era un'edizione limitata dell'anno scorso di non so di chi ed è la 100 bronzed e chic della linea Revlon photo ready e niente ha 10 grammi di prodotto ha una scrivenza assurda e comunque scusate se è sporca ma la utilizzo praticamente tiene due triangolini che sono più scuri infatti cioè questo è proprio scurissimo proprio scuro 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 però è tutta matto devo dire la verità per questo a me piace vedete è tutta matto e poi sopra porta queste due terre chiare insomma se volete fare un contouring molto leggero io vi consiglio questi due questi due cose qui questi due rettangolini qui se volete un contouring un po' più strong magari per un trucco di sera vi consiglio questo qui insomma il pennellino è abbastanza valido devo dire la verità perché l'ho utilizzato che insomma l'ho utilizzato in questo modo non è male però ovviamente utilizzo il pennello da contouring quello lì di Real Techniques comunque mi ci sto trovando davvero bene con questa terra la stradoro e sono contenta di averla acquistata e l'ho pagata solo 3 euro poi vi faccio vedere insomma quello che ho preso al banchetto e poi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da da Wicon allora sempre al banchetto ho preso questo rossetto di Deborah che è della linea rossetto atomic red ed è il il 20 è quello che ho sulle labbra però è molto più chiaro come lo vedete c'è un viola vedete questo è il colore cioè nello stick è praticamente il colore che io ho sulle labbra adesso me lo vedete molto molto più chiaro però è questo viola scurissimo vi faccio vedere insomma il colore questo è il colore io adoro i rossetti scuri oddio mi sto scippando tutti i capelli io adoro i rossetti scuri quindi a me piace come tipologia di rossetto poi non so voi se è un rossetto che vi può interessare o meno a me piace molto e devo dire che ha un'ottima durata perché io già l'ho provato perché l'ho preso qualche settimana fa tipo ho pagato 3 euro e questo rossetto qua praticamente ha la particolarità di essere molto confortevole sulle labbra si stende molto bene ha un buon odore e ha la particolarità di seccarsi sulle labbra quindi mantenere il colore bello impresso sulle labbra per un bel po' di tempo io poi ci applico sopra la matita di Wicon quella lì per contorno labbra perfetto però la utilizzo anche su tutte le labbra per far durare di più rossetti e devo dire che questa combo mi sta piacendo molto e anche il rossetto è bello mi piace mi dispiace che non rende ma è un viola scuro non è un viola cadavere c'è delle labbra tipo morta però è particolare come colore mi ha colpito e per 3 euro insomma l'ho preso anche perché questa linea Deborah la fa tuttora l'ho vista da d'acqua e sapone quindi voglio dire poi sempre dal banchetto sempre a 3 euro ho preso la cipria della bourgeois ed è questa linea che penso bourgeois paris non so come si chiama di preciso però il packaging perché fa diverse ciprie questa qua la potete trovare anche su asos su asos però costa costa 11-12 massimo 13 euro però io l'ho pagata 3 euro quindi voglio dire ha un odore di fiore qualcosa di spettacolare ed è la 74 ebricotè ha 9,5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 18 mesi ed è fantastica l'ho già utilizzata all'interno porta uno specchio abbastanza grande e questo è il colore che è perfetto mamma un odore di fiori spettacolare questa cipria e insomma è perfetto per la mia carnazone ha una texture molto molto sottile impercettibile impalpabile e mi piace perché si fissa sul fondo e crea un effetto velluto sul viso mamma spettacolare cioè io sono entusiasta di questi affari capitemi e niente ho preso la cipria della bourgeois l'avevo vista della bourgeois penso si dice l'avevo vista anche su asos però quando l'ho vista lì a 3 euro me la sono accaparrata cioè che la lasciavo lì e niente sono fiera dei miei acquisti poi un'altra piacevole scoperta questa ho studiato per pronunciarvi il nome di questa marca sono i prodotti di Lore Giller ed è una makeup artist new yorkese che ha un negozio nell'uppericide mi ricorda questa cosa mi ricorda tantissimo Gossip Girl e ha creato una sua linea di cosmetici che attualmente sono in vendita sul sito di qvc.it e costano una barca di soldi e ho preso di Laura Giller che obiettivamente no guardate questo packaging vi può sembrare roba di merda no io non conoscevo la marca cioè l'ho presa perché ho visto che il packaging era ben fatto e poi quando ho visto made in new york distribuito da Laura Giller make up new york ho detto sarà una cosa gaiaarda infatti sono andata a vedere e insomma sta marca è molto rinomata sta tipa è famosissima questa Laura Giller a new york è una makeup artist molto molto conosciuta e vi ripeto per avere lo studio nell'uppericide a new york voglio dire e ho preso questa palettina di ombretti che mi ha ricordato tantissimo la colorazione delle colorazioni della naked 3 più o meno che porta un diciamo un rosa satinato un rosa malva un bronzo che va sul rosato sono molto particolari e molto scriventi e resistentissimi perché già l'ho provata e questo marrone che è stupendo è il colore che adoro di più vedete sono scriventissimi eccolo qua hanno tutte delle perlescenze sul rosa all'interno no mi ha colpito molto e l'ho presa anche se mi ero riproposta di non comprare più ombretti perché non è a morire però non è potuto fare a meno e ho preso lei per 3 euro voglio dire ed è e sono insomma prodotti di Laura Giller e tuttora li produce se andate sul sito suo proprio scusate se andate sul sito di Laura Giller trovate questa palettina che si chiama Baked Eye Dreams Sunset Horizon ed è questa qui poi sempre di Laura Giller ho preso questo qui che è un blush ed è un blush Brickton color tartufo ha 24 mesi di scadenza ed è 9 grammi di prodotto e tuttora a parte vedete i packaging come sono belli e compatti sono davvero super super compatti e l'ho pagato 3 euro il colore è questo come potete vedere porta anche uno specchiettino sopra ciao porta anche uno specchiettino sopra è un blush cotto ma ha un effetto ragazze bellissimo purtroppo sicuramente non renderà infatti mi sembra una merda da qua però vi assicuro è un rosa praticamente questo blush ho studiato un pochettino i prodotti di Lord Giller è studiato per enfatizzare il vostro incarnato infatti come colore come avete potuto vedere non è granché però applicandolo sulla vostra pelle enfatizza il vostro incarnato cioè da colore e luce al vostro incarnato infatti una volta applicato vi dà un effetto molto naturale molto lucido è molto glow come effetto è stupendo e davvero dura tantissimo io ieri l'ho tenuto su un sacco di ore e sono rimasta stupita dalla durata di questi prodotti però dove se cercate insomma un po' su internet i prodotti di Lord Giller sono conosciutissimi poi questo video sarà lunghissimo ragazze sicuramente come ultimi due prodotti ho preso sempre su banchetto stavolta l'ho comprato lì fanculo e l'ho pagata a 3 euro è l'acqua rouge di make up forever questo rosa rosso corallo molto molto bello è molto fedele insomma come lo vedete insomma dal video e poi insomma sono i classici acqua rouge di make up forever io mi ci trovo bene ho anche altre colorazioni e l'ho preso al banchetto a 3 euro quindi sinceramente l'ho preso lì stavolta ed è proprio lui insomma make up forever professional pari non hanno i colori questo qua e però insomma se cercate deve essere tipo un strawberry come colore perché è molto molto simile come ultimo prodotto ho preso questo fondo ve l'ho detto la mia mania per i fondi ed è della chanoin io non conoscevo questa azienda poi sono andata a vedere che questo fondo costa tipo 47 euro ed è una marca austriaca è della linea color flash collection ed è quello che ho sul viso devo dire che è leggermente aranciato come prodotto vedete è un pochettino aranciato per me però ci applico su vedete un pochettino aranciato però ci applico o dei fondi più chiari o BB cream o più chiare per mescolare i colori o la cipria trasparente che insomma mi toglie questo effetto un po' aranciato però davvero ha un odore buonissimo si asciuga subito è impercettibile sul viso non è un fondo pesante è la seconda volta che la uso quindi non vi so dire più di tanto però come prima impressione mi ci trovo bene è 30 ml di prodotto ed è distribuito in austria questo qui quindi non credo che lo potete trovare al massimo su internet ed è irity tint finish foundation non vi so dire il colore perché non c'è della shanoin 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 questa è la marca poi da wikon ho preso tre prodottini ho preso una matita occhi che teneva in sconto a 9 euro e 90 mi serviva una matita marrone ho preso lei io adoro i prodotti di wikon davvero non mi spiego come caspita fa chi può accampare wikon è vuota cioè davvero ragazzi io non mi spiego cioè o è perché più pubblicizzata mandate da wikon perché davvero ha dei prodotti fantastici cioè sfiorata appena sfiorata e tutte le matite della linea base sono così per non parlare delle long lasting che io adoro e l'ho pagata 1 euro e 90 in sconto un attimo che tengo lo scontrino qua perché vi voglio dire anche i prezzi dei prodotti ecco qua 1 euro e 90 sicuro la matita me la ricordo poi ho preso dell'edizione limitata burlesque il matitone rossetto in matita 5 ore ed è lo 03 Chianti ed è bellissimo questo crea un effetto velluto sulle labbra fantastico cioè io sono innamorata non mi pento di non averne preso un altro perché come colore questo era il più bello ed è un vinaccia scuro vi faccio vedere appena sfiorato crea un effetto velluto sulle labbra che è qualcosa di fantastico stupendo stupendo ed ha un effetto tipo una tinta per labbra cioè stupendo e questo qui l'ho pagato 2 euro e 80 ha una scadenza di 34 mesi e finish semi matte però è matte ve lo assicuro cioè è davvero impercettibile la cosa sheer davvero e i grammi non sono indicati vi dico la verità né sulla confezione questo comunque è un prodotto senza parabeni a chi interessa comunque i grammi non sono indicati cioè è fantastico e poi come ultimo prodotto c'è il rossetto lipstick glamour 01 che sono i nuovi rossetti di Wicon a 3 euro e 90 questi qua non stavano in sconto però hanno un prezzo davvero irrisorio innanzitutto il packaging è fighissimo cioè porta è nero tipo vellutino cioè tipo quelli della Kiko insomma per intenderci quelli gommati e porta la scritta fucsia wiconmake.it glamour lipstick anytime e ho preso lo 01 che è un colore fantastico vi ho postato anche la foto su facebook quando l'ho usato è un nude rosato stupendo fantastico e questo qui funziona come quello la di Deborah cioè si secca sulle labbra e le vostre labbra vi rimane sulle vostre labbra vi rimane quel colore bello intenso e niente ragazzi dato che siamo 31 minuti di video io direi di chiudere io vi mando un bacio fortissimo grazie per essere sopravvissute fino a 31 minuti io vi voglio bene e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze grazie a tutti grazie a tutti